Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che Scoprirai seguendo le distanze dentro sé Quante deviazioni, quali direzioni, quali no Prima di restare in equilibrio per un po' Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito E vado via, vado via, mi vida così sia Correre, per un motivo, una ragione, un obiettivo, uno scopo di vita Questo è Daniele Corsa Io ho messo correre tra virgolette perché alla fine correre lo facciamo tutti Però un po' che capiscono cosa l'atletica vuol dire correre Quindi ho voluto dire correre tra virgolette perché per raggiungere i obiettivi Sì devi correre ma devi avere un cuore davvero grande e forte per poter dire che io so correre Io come primo dico che non so correre perché con gli allenamenti puoi dire sto imparando Però avendo fatto questi risultati posso dire che sto incominciando a correre Quindi sì, quando arriverò, spero di arrivare in una carriera molto elevata potrei dire io ho corso Grazie a tutti La dignità degli elementi, la libertà della poesia Al di là dei planimenti, dei uomini, è magia, è magia, è magia, è magia Sopra un'onda stanca che mi tira su Mentre muovo, mentre muovo verso su Sopra un'onda che mi tira su Sopra un'onda che mi tira su